il rover è una tipologia di legno utilizzato nel aradamento per realizzare mobili e pavimenti è un legno stabile e duratura nel tempo grazie alle sue caratteristiche il rover rappresenta il giusto equilibrio tra la finitezza e prestazione e ha molta resistenza negli agenti atmosferici per questo utilizzato nella costruzione l'imbarcazioni il rover presenta in natura un color giallastro tendente quasi al bruno con il passare degli anni il colore si modifica scarendosi sempre più il legno di rover piuttosto pregiato viene utilizzato oltre che nella fabbrica di mobili nell'idilizia per travature parche nei cantieri navali nella costruzione di doghe per botti per l'immicchiamento dei vini e altre bevande alcoliche ed anche per la costruzione di bare ottimo combustibile è anche utilizzato per la produzione di carbone chiama rotonda le ghiande sono sessili disposte in gruppi da due e cinque sopra un trenucolo molto breve le squame della cupola sono in gran parte libere cresce in europa in asia minore dove forma boschi ed anche coltivato presenta numerosi morfotipi alcuni a reale list in italia è diffusa dal mare 1300 metri gli usi industriali delle cortecce del legno sono molto avanzati una specie affine detta roverella è più piccola in tutte le sue parti grazie per la visione grazie per la visione